Dato che gli attori sono persone assai capricciose e poco facili da trattare, onde evitare di creare il loro irritazione che li porterebbe a dare cattiva mostra della loro arte recitativa, vi preghiamo gentilmente di spegnere i vostri centurali. E iniziamo subito con l'Arazzo di Espagna di Emmanuel Cabriè, non prima però di aver accolto con un calorissimo applauso l'Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi, e il direttore, il maestro Giuseppe Graziani. Buonasera, 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 e benvenuti all'edizione 2013. Ciao, quest'arte vi rafforzate le stelle, nel comune di Malalbergo. Sognuno di qui a presentarvi lo spettacolo Around the World della scuola di danza One Dance di Malalbergo, diretta da Alice Guenzoni e Francesca Gerdosa. Faremo un gruppo in vari paesi del mondo, con l'aiuto della danza e delle immagini, per vivere insieme colori e suoni. Buonasera a tutti, bello e buonasera, questa sera, passiamo subito a prevarciare la festa cantante, che questa sera è qui per provare a realizzare il suo grande sogno e si metterà in gioco, e da noi bello di sé, davanti alla vostra giuria tecnica e a voi pubblico. E ti facciamo un grande applauso a Silvia e a Mone. Buonasera a tutti. Allora, continuiamo in questa serata molto intensa, dedicata alla bellezza e alla musica, presentando un altro aspirante cantante. e signori e signori, ecco a voi giù sull'edica bella.